musica 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 tu arrivi da? musica 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 Quando li metterai, ti sentirai bene stretto, a meno che dopo non ci siano male, non ci vanno bene. Però, perché ammettere questa bella parte, perché ammettere? Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!